signori benvenuti in una nuova puntata della tecopolis allora ragà nella scorsa puntata non vi faccio vedere che cosa ho fatto praticamente abbiamo montato questi bellissimi che adesso si ammontano a 320 esmeraldi e 329 diamantolli più 2048 di uranio 2048 di zinco e stiamo abbastanza messi alla grande allora quello che volevo fare oggi ragazzotti è assolutamente gli stone miner ma diamo un'occhiata alle quest innanzitutto facciamo così così non ci leviamo dalle scatole questa roba la meccanism ecco la meccanism sarebbe una cosa molto interessante da fare se ci fossero i generatori il problema che i generatori della meccanism non ci sono allora con l'indexo smelter la crystal line l'emerald e il diamante arriviamo a fare l'infused crystal line che ci permette di ottenere per l'appunto per l'appunto per l'appunto lo steel casing ora noi di crystal line non ne abbiamo ne abbiamo due però è anche vero che possiamo anche autocraftarla qua abbiamo 64 bellissimi elite tecnium icot qua ne abbiamo altri sei perché non va avanti ah perché forse gli manca il reston flux coil probabilmente sì gli manca quello vabbè non importa non importa ragazzotti abbiamo abbastanza quanti alla grande io avevo paura per il printer silicon invece per l'advanced tecnium plate raga quanto advanced tecnium abbiamo oh mio giz bellissimo bellissimo cioè sono soddisfattissimo della del di quello che stiamo ottenendo ragazzotti ovviamente in futuro sarebbe meglio che la refined veda sia l'advanced tecnium che l'elite che tutti i tecnium comunque possibili immaginari cosa che ovviamente possiamo fare possiamo ottenere solo ed esclusivamente tramite la la power perché genereremo un bel po di energia e poi da lì ovviamente potremo tranquillamente fare tante belle cosine allora prima di tutto la cover come si faceva che con una nugget di ferro è dell'ottimo c'è praticamente il materiale di cui vogliamo la cover ah vabbè ce li ho qua facciamo sei cover possono bastare tanto devo coprire solo questo me ne ho messo tre di cover c'è andiamo ce ne conto va bene abbiamo praticamente tutto a disposizione adesso iniziamo a fare un po di miscellanea perché ogni tanto la miscellanea raga fa molto molto comodo ci serve mettere una torcia qua perché se non mi spawnano le merda ok allora multi servo press possiamo farne tre si possiamo farne tre raga dobbiamo fare una zona proprio qui sotto dove possiamo automatizzare tutte le cose ora come la vogliamo gestire perché se gestita molto male cazzo non mi ricordo neanche neanche come la stavo gestendo in realtà se devo essere sincero non ne ho la più pallida idea però ragazzotti possiamo fare una cosa molto interessante ovvero togliere tutti questi anzi andiamo avanti con la po direttamente alla power mi servirebbe orb questo che vuole questo che vuole questo adesso sconvene con le blaze road ah vabbè le blaze road le possiamo fare tranquillamente zinco questo urani ah l'uraninite raga è vero dobbiamo cercare di ottenere l'uraninite allora per ottenere l'uraninite ragazzuoli ci serve l'uraninite extractor ci manca lo stilker quindi raga per forza di cose dobbiamo andare avanti con le quest quindi passiamo dalla meccanese induction smelter induction non c'ho l'autocrafting giustamente quindi facciamo così no facciamo qui gioco qui su qui sotto induction smelter facciamo così autocraftiamo tutto tranne la blast furnace mentre questo si ottiene smeltando la stone e la stone si ottiene per l'appunto smeltando la cobblestone poi dovremmo avere tutto ci manca solo l'autocrafting della fornace vabbè esatto non esatto indifferente vediamo questa è una pattern normale una fornace perfetto quindi andiamo a mettere questa qui dentro questa qui dentro e questa qui dentro poi queste due per il momento facciamo così poi saliamo su induction smelter dovremmo poter craftare tutto però siccome sta craftando il multiservo press dobbiamo aspettare un attimino un po' raga ok ragazzi quindi abbiamo l'induction smelter a noi ci serve l'infuser e crystal line che si ottiene con la crystal line l'emeraldo e il diamante quindi 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 dove mi piazza dove mi piazza tanto dormiamo perché dormire è importante allora io non so se stiamo usando veramente tanta energia oppure oppure no però possiamo fare connector ne diamo l'energia così poi crafter e importer perfetto così almeno poi raga ripeto quando avremo comunque l'energia per poterlo fare e ovviamente accelerare molto i crafting in poche parole andremo ad automatizzare in modo più significativo più importante tutte le cose forse magari tipo andando a creare una nuova zona proprio partendo magari dal blocco centrale del controller della refiner e poi tutte le diramazioni del caso magari tipo andando a creare una zona crafting una zona dove farmiamo tutte le risorse eccetera eccetera però con calma raga non ci non dobbiamo fare le cose molto in fretta allora intanto diamo energia all'induction smelter per dargli energia ovviamente dobbiamo salire sopra perchè il controller questo controller gestisce tutto vediamo se riusciamo a trovarlo eccolo qua perfetto per il momento gli diamo energia così poi saliamo su del tutto ecco io direi che va più che bene oh merda non abbiamo abbastanza acquisti vabbè io direi riprenderà tutta tanto raga alla fine cos'è che ti manca scusa di polveri aspetta qual'è quella che gli manca rubi ah quella dello zaffiro che effettivamente non ha sta andando tutto bene allora andiamo a prendere un eh dovremmo averlo qui dentro senza scocciare ovviamente quelli che abbiamo già messo di là allora facciamo così togliamo questo e mettiamo questo dovrebbe essere un po' più veloce quindi lasciamolo perdere per il momento andiamo a prendere qui dentro eh emerald vedete di farne proprio si non è un problema facciamo così scendiamo giù e per il momento solo per il momento andiamo a metterli manualmente poi ovviamente dopo andremo ehm ad automatizzare ad autocraftare il tutto è ovvio che eh sarebbe consigliabile magari fare una farm automatica di elite di tutti i tecnium che abbiamo nel modpack è una farm automatica di queste risorse qua perché se no raga non ne usciamo più ehm perché comunque la crystalline viene usata sia per fare i crafting che la polvere eh la crystalline stessa eh e ovviamente anche i vari cristalli no? quindi ci servono all'interno del modpack oltre che ovviamente la crystalline serve per ottenere l'infuser crystalline e l'infuser crystalline se non sbaglio serve per ottenere ah solo la di electric paste ok cioè praticamente non è obbligatorio diciamo andare a perfetto va bene l'infuser crystalline ora ci chiede lo steel casing della mechanism quindi facciamo steel steel ne abbiamo quindi facciamo steel casing andiamo a vedere come si fa in realtà dovremmo poterlo fare tranquillamente lo facciamo così poi facciamo machine frame aspettiamo un attimino il machine frame ci vediamo ok ragazzotti abbiamo il machine frame e per la prima volta in questo modpack riusciamo a fare uno steel casing maramao perché sei morto mamma mia ah 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 quanto cazzo ah meno male allora ora ci chiede ovviamente il metallurgic infuser che ovviamente non è difficile da fare una volta che abbiamo lo steel casing che cosa cosa mi sta prendendo per il culo no raga ma siamo serie ma siamo serie la basic tecnium plate per fare basic control circuit e da lì poi me li chiede tutti cioè non tutti tutti però l'advanced come no sei un figlio della merda e poi l'elite che vuole l'elite tecnium plate ma perché dovrei farla cioè ok a parte le versioni avanzate della mechanism che non è una cosa urgente da fare c'è un motivo per cui tu mi stai chiedendo una cosa del genere no non ha senso perché l'ultimate control circuit neanche 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 perché sono cose che comunque possiamo possiamo anche non fare no ma tu stai male ma tu stai molto male stai tanto 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 male a parte anche l'advanced c'è la no raga serve solo per alla fine cioè poi me lo purification chamber ne vuole due per cui vabbè io direi allora aspetta eh raga tanto ormai prendiamo queste poi di là dovrei avere 64 di queste perfetto tanto ormai raga non ha senso abbiamo ok prendiamo queste anche perché tanto ce ne serviranno due per fare il mamma mia ragazzo veramente veramente non ho parole non ho parole non ho parole mettiamo la red son come se non ci fossero domani vabbè 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 autocrafting è impossibile fare non è allora possiamo accumularli ma possiamo fare anche l'autocrafting qual è la scelta migliore perché se dovesse accumularli accumulerei comunque uno stack e non di più comprese le plate non farei diversamente farei per forza di cose no sto pensando ragazzi sto pensando per forza cioè non è una cosa stupida che quella che sto facendo è abbastanza abbastanza seria come cosa con il basic control circuit è una cosa del genere allora queste le butto qui dentro tanto per fare otteniamo l'advanced control circuit con cui poter fare poi la purification chamber che vuole l'enrichment chamber che vuole tutto questo stronzaggine di cosa allora lo steel casing mettiamo l'autocrafting perché comunque possiamo cioè craftare anche le altre ok ci mancano l'infuse crystal no non ci mancano coglione vai ok quindi lui crafta tutto quanto poi ci serve l'osmium compressor credo no no che cosa voleva la purification all'enrichment chamber ok quindi enrichment singhiozzo chamber che vuole due basic control circuit più uno steel casing allora facciamo così scendiamo giù recuperiamo ovviamente basic control circuit che ha fatto oppure questo thank you so much ragazzi per il momento dobbiamo arrangiarci così poi in futuro c'è ma ve ne rendete conto cioè ve ne rendete conto di tutte le cose che dovremmo fare cioè non è non è possibile è una cosa assurda è una cosa però mi piace perché comunque ti mette in difficoltà ma nel giusto modo perché ti dice guarda tu non lo puoi fare adesso non lo puoi autocraftare però in futuro potrei farne avalanghe cioè proprio avalanghe cioè di questi per esempio noi possiamo fare anche l'autocrafting io direi che in futuro avremo l'autocrafting sia del qualsenrachet iron fino a farne magari sì 32 stack almeno il qualsenrachet iron facciamo una farm a parte la sistemiamo lì e poi magari tipo mandiamo tutto a casa magari con un ender chest sì potremmo effettivamente farlo potremmo fare una zona solo delle farm di quello che ci interessa veramente e poi magari tipo mandare tutto nel drawer sì 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 mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace allora con l'enrichment chamber possiamo fare la purification c'è ora ho visto una cosa no l'infiusa da noi se tu non mi metti il ferro per ottenere l'infiusa da noi ti giuro prendo il pack e lo disinstallo bravo 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 almeno questo è voluto diciamo salvarti il culo perché sennò ti avrei ammazzato c'è tipo ti avrei proprio devastato ok ci servono solo due infiusa da noi che poi tra l'altro possiamo utilizzare per fare le altre a noi spero con niente di complicated no sembrerebbe di no sembrerebbe tutto abbastanza tranquillo quindi boh sì ok no continua a farmi questi thank you shan ah no ma ne vuole mi sa che ne vuole due ne vuole altre due sì mi sa tanto che ne vuoi altre due che ne vuoi altre due togliamo questo facciamo così allora normalmente per fare il basic control circuit vuole l'osmio e vuole due di redstone invece stavolta ha voluto rompere le palle ok raga non sono cioè sono indeciso su cosa fargli fare metallurgic infuser purtroppo ne abbiamo solo uno quindi devo sempre scegliere allora purification chamber perché ora con il mio horse ma tu sei fu ma non mi interessa di triplicare gli horse a me ma tu mi hai fatto mi hai fatto fa ma ma perché devo triplicarli me lo spieghi non ha senso non ha senso sono infiniti sono infiniti perché dove triplicarli e poi le waystone ok questo lo salteremo questo mi interessa però sarà bloccato o no ha delle dipendenze questa cazzo di questo che cosa mi sa di sì mi sa proprio di sì cioè dai ma raga ma non posso essere obbligato a fare ma perché dovrei fare le waystone ora perché dovrei fare le waystone non ha un senso logico non ha un senso logico perché siamo in uno skyblock cioè avessi avrei capito se fossi stato magari tipo che ne so nell'overwood allora ok ma non qui qui nel coso nello skyblock ma quando mai la power ah la power è sbloccata ci serve l'uraninite extractor ok questo non è un problema perché possiamo fare uno steel casing e fare tutto tutte cose quindi allora scendiamo giù vediamo cosa stava facendo il fusel da lui ok ti puoi anche fermare cioè mi ha fatto fare la ma perché io non leggo raga dovete capire che sono in pacifica scusate dovete capire che ho appena finito di montare un armadio sono stanchissimo sono molto stanco quindi è normale che ma perché c'ho 2000 ma perché c'ho 2000 ok no forse sono quelle che ho accumulato nel mob spawn ho detto ma che cazzo sta succedendo ok vediamo se me l'ha fatto steel casing no ancora no aspettiamo un attimino abbiamo lo steel casing cos'è che dovevo fare sono messo completamente ah l'uraninite extractor ok quindi uraninite extractor ci dà il manuale della power che noi ovviamente useremo tantissimo raga perché ovviamente il manuale della power ci serve giustamente perché scusate come faccio a capire la mondo no senza di questo non potrei capire no l'ho perso si buonanotte ok allora saliamo di nuovo su quindi uraninite extractor come si usa con l'energia e l'uranium cluster lui praticamente dovrebbe dovrebbe ok quindi se io tipo facessi una cosa effettivamente di questo genere no allora l'uraninite extractor no potrei metterlo così ah però dovrei farlo vedere alla xnet e poi effettivamente un drawer così dal cazzo tanto non non è che ci serva cos'è questo ok no no sono solo planks perfetto quindi ok 1 e 2 ora mi spieghi ora mi spieghi da dove è uscita la la chisel che non mi sembra di averla avuta nell'inventario comunque ah si facciamo così facciamo anche un'altra cosa connector ci siamo due connector si giustamente come rompere le balle quindi uno ah questo già lo vede perfetto perché lo vede non chiedetemi allora qua scriviamo una ninite qua scriviamo una ninite come cazzo che si chiama eccolo qui extracto tua zia perfetto 1 2 3 quindi da qua noi dovremmo avere adesso eccolo qua inserisci poi prendiamo un cluster vediamo qua item create create no levati dalle palle dov'è va bene indifferente non cambia niente facciamo un filtro e lo copiamo poi cancelliamo tutto il canale giustamente poi qui uraninite extractor mettiamo paste mentre andiamo a cercare il drawer dell'uraninite do cazzo uraninite uraneo ah eccolo qui vediamo perfetto 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 sei un figlio di due coglioni dai due coglioni veramente dai non è possibile allora vuole cioè non è che vuole il problema è che ciccio così poi così questo lo mettiamo qua sì uno due tre quindi uno due e tre ah ma io ho bisogno anche di una fornace ora che ci penso perché poi devo mandare oh la fornace la potrei mettere qua come cazzo lo si sta no allora potrei metterlo qua metterla qua la fornace iniziamo a chiederla fornace poi di qua mettiamo giustamente il drawer che poi riceverà l'uraninite no facciamo così quindi furnace aspettiamo ovviamente tre giorni e mezzo per la fornace ok raga ho lasciato il mondo AFK tutta la notte vabbè a parte i mille diamanti i mille smeraldi abbiamo anche 2048 di uraninite me lo sta accumulando qua però il problema raga è che un paio di uraninite me li ha buttati nella refinerd perché era collegata a un interface e quindi trovando anche l'interface dove buttare gli oggetti ha buttato gli oggetti dentro la refinerd non è un problema perché me ne sono accorto relativamente presto to make nuclear waste ok vabbè per fortuna cioè ne abbiamo tanto ma perché il blocco può essere usato to make nuclear waste user in reactor ok questo va bene poi usato per fare i casing va bene non è un problema sì vabbè adesso dobbiamo fare questo ma scusa ma in che senso il blocco di uraninite può essere usato per fare ma non mi dice niente nuclear waste ah ma 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 non il il come si chiama il scusa cosa plutonio oppure il polonio sì che vabbè può essere utilizzato per fare questa cosa va bene va bene va bene ragazzi sì 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 ci siamo più o meno dai ora mi serve solamente un resource combiner per poter ottenere per l'appunto facciamo un po' di team block il flopper non ho no raga però aspetta perché tanto ci serviranno quindi è inutile che ci giriamo intorno allora posso farne 64 cioè senza stare lì a rompermi le scatole nel fare queste cose qua vabbè per il momento lo facciamo a mana quindi facciamo proprio così facciamo un po' di chest senza colpo ferire poi facciamo così mettiamo dentro la legna e andiamo a fare wooden hopper come se piovessero perfetto perché tanto ci servono ragazzi non posso fare niente flopper e infine possiamo fare il fluid crafter e infine il fluid cioè il resource combiner thank you very much ora questo resource combiner ha bisogno facciamo finta che non avete visto niente facciamo finta che non avete visto niente allora infuse the crystal line io direi di non usarle tutte quante però dipende perché magari vabbè ora come ora ci serve solo per fare quello tanto il miner tier 5 ragazzi ne parlerà fra almeno 20 puntate no vabbè 20 puntate no però forse mi servirà lo steel casing dalla meccanice per fare alcuni macchinari però per il momento facciamo così 16 poi ci servono delle blaze road che comunque possiamo fare in grande quantità poi facciamo così almeno abbiamo direttamente questo zinco che ne abbiamo tanto sered brick che non ne abbiamo tanti però vabbè li possiamo fare e infine luna ninite bim poi andiamo a prendere un elite take new my got in modo da celeare del 30% ovviamente al macchinario very good very good very good e abbiamo la dielectric paste che è la base la base della power ci servirà praticamente per fare qualsiasi cosa all'interno della power nonché ovviamente l'energizing orb e l'energizing road starters poi ovviamente a quanto mi sembra è abbastanza vanilla la mod quindi cioè non è stato cambiato niente di che allora quindi di electric paste prima di tutto dobbiamo fare l'orba orba di tanto spino quindi ci servono queste che però vogliono ovviamente le iron bars facciamo così facciamo un paio così ce li abbiamo quindi di queste ne facciamo 16 poi serviranno anche quelle verticali perché il creatore della mod è abbastanza stronzo quindi facciamo il casing e infine mi servono due di vetro per poter fare poter fuggi il nostro orbo ah ma mi sa che lui sta usando il vetro cioè sta facendo usando la fornace per fare altre cose quindi direi di di rubare il vetro che abbiamo fatto qua che non è poco sono 400 di vetro quindi benissimo no non me l'ha visto perché dovevo fare il casing anche se il casing l'ho già fatto e lui non l'ha visto però tanto siccome il casing ci serve energizing road per fare questo si ciccio quindi facciamo così perfetto e infine vuole l'energizing road starters e ovviamente ci fa fare subito il reattore raga bellissimo 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 quindi andiamo a fare l'energizing road che vogliono il basic capacitor che si fa così che si fa così che al mercato mio padre compro quindi starters no facciamo così ne facciamo un po' e poi così quindi possiamo fare l'energizing road starter che ovviamente è una ciofecca sta cosa quindi in ultima analisi ci serve il reattore ce ne servono 36 prendiamo subito tua zia tua zia tua zia prendiamo il letto qua siamo sicuro perfetto almeno a una cosa serve questa zona tutta chiusa perfetto quindi abbiamo detto abbiamo tutto praticamente ci manca solamente da fare il reattore quindi facciamo power reactor poi vedete ci sono diversi tier ma noi ovviamente andremo a fare 9 di questi mi servono 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 infine possiamo fare buttare questo dentro e fare 1 un cazzo perché finalmente ci servono questi si mica maledetto quanto per cazzo ah guarda si è incastrato qui il merda ma muori ancora vabbè scusa comunque andiamo a prendere l'altra di electric paste che ho qui dentro cos'è che ci manca ah l'infused crystal quella vabbè raga purtroppo non ci possiamo fare non ci possiamo fare niente ah dovremmo averla una minchia però aspetta noi possiamo fare un bel po' perché adesso abbiamo uno stack qui di crystal line possiamo prendere uno stack di diamanti uno stack di questo tanto raga ci serve è inutile che ci giriamo intorno là risparmiare materiali niente vai top fammene uno stack e ciccia quindi buttiamo dentro questa roba ci servono altri di questi capacitor facciamo un pochettino facciamo così e un altro se non sbaglio ci serve uno e due andiamo 36 ah si si godurioso ora raga ovviamente noi lo montiamo temporaneamente perché voglio vedere quanta energia può generare 100 rf su tic è un po' uno schifo contando che comunque usa delle risorse allora prima di tutto l'acqua se non sbaglio vuole un secchiello e non la consuma poi vuole il ghiaccio che noi come lo possiamo fare col blast chill e poi il multiservo che fa il pacchetto ice bla 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 il dry ice ah ok 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 beh raga in effetti si potrebbe fare una cosa si potrebbe fare una cosa nella prossima puntata ragazzuoli andiamo avanti con la power perché comunque ci serve fare i blazing crystal perché col blazing crystal possiamo ottenere molta più energia probabilmente perché comunque è un efficiente un coefficiente di calore molto più alto della della lava non so quante energie effettivamente poi tra l'altro non è un liquido quindi la lava effettivamente la utilizzeremo solo per fare i crafting e non per alimentare tutte queste cose poi magari potenziando il termogenerator possiamo potenziare tutti i nostri macchinari quindi niente dobbiamo semplicemente salutarci e darci l'appuntamento alla prossima puntata della Tecropolis alla prossima raga grazie a tutti